Il monastero di San Benedetto, sito in via Crociferi, già patrimonio UNESCO, è uno dei simboli della città di Catania. Dopo tre secoli di clausura, dall'apile 2013, è possibile ottrepassare il portone di accesso al monastero e visitare tutti quegli ambienti che hanno ispirato scrittori e registi, tra cui Giovanni Verga, che qui ha ambientato Storia di una cabinera, e Franco Zeffirelli, con l'omonimo film girato proprio in via Crociferi. Il monastero di San Benedetto è riconoscibile grazie anche al superbo arco che si apre su via Crociferi, che si narra fu eletto in una sola notte e che collega l'abbazia all'abbadia piccola, che in realtà costituiva il monastero di Santa Maddalena. Nessuna delle sue ore che viveva sopravvisse alla distruzione, pertanto nel 1704 fu edificato l'arco di San Benedetto, con lo scopo di unire questi due monasteri. Secondo un decreto del vicerre spagnolo, infatti, gli edifici ecclesiastici in cui nessuna religiosa era sopravvissuta non potevano essere ricostruiti. Oggi, finalmente, è stato possibile dare nuova vita all'abbadia piccola, diventata parte integrante del monastero di San Benedetto. La visita comincia dal sito storico del monastero di San Benedetto, che ha origine dei resti di una domus romana d'epoca imperiale. I reperti e le antiche fondamenta sono state scoperte durante i lavori di restauro per la costruzione di un passaggio di collegamento fra la biglietteria e il monastero di clausura. Di questa domus riconosciamo alcuni ambienti, tra cui una cucina in cui è ancora visibile il lavello angolare, e il cortile esterno, nel quale si evidenzia un foro per convogliare l'acqua piovana, unica risorsa d'acqua in assenza di un fiume a Catania, che veniva adoperata per ogni necessità della vita domestica. La Menano, l'unico fiume al corso perenne di Catania, avendo un percorso sotterraneo, infatti, non fungeva da avere propria risorsa. Il percorso continua attraverso il parlatorio settecentesco del monastero di clausura, l'unica ambienti in cui alle religiose era data la possibilità di avere contatti con il mondo esterno. Le suore, con i visi nascosti, sedevano dalla parte retrostante delle finestre, e celate dalle grate incontravano i parenti che venivano a trovarle. Si riuscivano a sentire le voci, ma non si vedevano mai i volti. Questa separazione totale, fisica e visiva, fra la religiosa e il mondo esterno, è ciò che ha ispirato Giovanni Verga alla scrittura di Storia di una capinera. Lo scrittore entrò in questo monastero in occasione di una visita alla cugina che era diventata suora, e venne particolarmente coppito da questa imposizione di distacco, che teneva lontana la propria parente dai familiari in visita. Trovata l'ispirazione, quindi scrisse uno tra i suoi più famosi romanzi, da cui poi Franco Zeffirelli trasse negli anni 90 l'omonimo film, girato proprio in questi ambienti. La particolarità di questo salone, oltre alla disposizione e l'utilizzo della stanza stessa, è la pavimentazione tipica del XIV secolo. Il pavimento, conservato allo stato originale in terracotta e pietra calcarea, presenta decorazione di forma geometrica tipica dell'epoca arabo-normanna, data dall'intersezione di più forme. La stella ad otto punte, che si ripete nella pavimentazione, è infatti un simbolo arabo, centro sacro per eccellenza. Caratteristica del monastero di San Benedetto è la presenza di una forma particolare di devozione, l'adorazione perpetua del Santo Sacramento. Costantemente, giorno e notte, vi è almeno una sorella che prega rivolgendosi all'Altissimo. Le Benedettine dell'adorazione perpetua, infatti, sono monache di clausura, dedite all'adorazione ecualistica ininterrotta, in spirito di riparazione ed espiazione dei peccati del mondo. Questa forma di adorazione nasce in Francia, durante la minore età di Luigi XIV, allorquando la sovrana Anna, regina di Francia, madre di Luigi XIV, si rivolge ad una suora a lei cara, affinché preghi per proteggere la vita del figlio messa in pericolo dalle fronte francesi del periodo. In Sicilia sarà l'arcivescovo Giuseppe Francica, nava dei bontifè, ordinato prete a Catania nel 1869, che porterà la devozione perpetua all'interno di questo monastero, che venne scelto, tra le altre ragioni, perché si trovava nel cuore della città. Tutte le suore del monastero di San Benedetto di Catania sono accomunate da un rito speciale, che avviene in questo luogo e pochi altri in Europa, tra cui il monastero delle Benedettine dell'adorazione perpetua di Parigi, sito in Rue du Bac. In aggiunta alla regola di San Benedetto, prega e lavora, che si compie dalle 5.30 del mattino fino alle 19.30 della sera, per tutte le religiose dei monasteri benedettini, le suore di Catania continuano la loro opera anche dopo la compieta, l'ultimo momento di preghiera della giornata. Qui, a turno, durante la notte, tutte le notti di tutti gli anni, con qualsiasi condizioni, meteo, caldo, freddo, le suore a turno si chiamano per adorare il Santissimo Sacramento. Questo rito ha condizionato anche la manifestazione più artistica della chiesa del monastero, che presenta un ricco altare centrale, realizzato non come parrebbe a prima vista con un semplice malmo prolicromo, bensì con delle pietre dure preziose, le ricercate di aspre di Sicilia. Ben presto, infatti, ci si accorse che in alcuni fiumi della Sicilia, come in Sardegna e in Trentino, si osservano dei particolari ciotoli, che se tagliati all'orinterno presentano delle bellissime venature di colore rosso-verde. Con molto lavoro di maestria degli orefici, da queste pietre si potevano ottenere delle piccole piastrelle di 7-8 mm di spessore, che venivano accostate l'una accanto all'altra con precisione. Grazie a questo minuzioso lavoro, l'altare assume questo aspetto così lucido e così bello da sembrare un'unica pietra preziosa. La restante parte fu arricchita con argento di bolla e oro di zecchini veneziani, eseguito fra il 1792 e il 1795. Ecco perché l'altare è la parte più preziosa della chiesa, il luogo in cui vivono attorniate le suore e che attira le loro preghiere. La chiesa, a unica navata, è illuminata dalla luce che penetra dai sei finestroni sulla volta ed è raffinato i candelieri a triplice voluta che poggiano sulla trabbiazione. Bellissimo il pavimento di marmi policomi del Tardo 600, che fu recuperato dalle rovine del terremoto. L'aspetto attuale del monastero di San Benedetto, infatti, è stato realizzato sulle rovine della precedente chiesa del 600, che andò distrutta la notte dell'11 gennaio del 1693 a causa del disastroso terremoto di Val di Noto, che per la quinta volta rase al suolo la città di Catania. Il pavimento barocco è l'unico resto originario dell'antica chiesa seicentesca, molto più elaborato a motivi floreali rispetto all'architettura più semplice del Tardo barocco della chiesa. Quest'ultima, ricostruita dopo il terremoto, presenta uno stile più sobrio, simile al neoclassicismo. Alzando lo sguardo verso la volta interamente affrescata con episodi che narrano la vita e l'opera di San Benedetto, si rimane estasiati. Essa fu dipinta in soli tre anni, tra il 1726 ed il 1729, da un pittore proveniente da Messina, Giovanni Tuccari, che per la sua velocità fu definito fulmine della pittura. La scelta di commissionare questa grande opera al Tuccari fu dettata dal fatto che i più grandi pittori della città di Catania morirono durante il terremoto. Ma la più grande domanda è come il pittore si è riuscito ad affrescare così velocemente la chiesa. Benziti a questa distanza di circa 18 metri, la pittura sembri molto elaborata e dipinta con precisione, in realtà essa si basa su dei giochi di ombre, colori e forme. Ad una prima vista sembra che il pittore abbia perso molto tempo con il pennello, che abbia intuggiato sui tratti, dipinto venature, vari particolari, e che abbia sfumato con maestri e colori. In effetti non è così. Se la osservassimo a distanza rivacenata ci accorgeremmo che questa pittura è frutto di grandi pennellate, affiancate l'una all'altra in modo da creare particolari effetti ottici. I punti di colore si susseguono, a volte bruscamente, altre in modo tenue, in una forma di impressionismo ante litteram. Questa tecnica, molto caratteristica, riguarda tutti i pittori settecenteschi, che dovevano essere molto veloci a realizzare gli affreschi e lasciare allo stesso tempo affascinati coloro che alzavano il viso verso il cielo. La volta è divisa in tre fasce, la fascia laterale destra, la fascia laterale sinistra e gli affreschi centrali. Su ciascuna finestra, sulla parte destra, si notano degli spazi triangolari denominati lunette, in cui è rappresentata una diversa figura femminile. Nella prima finestra verso l'altare è dipinta una donna che si guarda allo specchio e identifica la virtù della prudenza, in quanto per essere prudenti bisogna avere una chiara immagine di sé. Nella finestra centrale si osserva una donna, la virtù, vicina ad una colonna di marmo, simbolo della fortezza, e quindi la virtù della fortezza. Infine, in quella più vicina all'ingresso della chiesa, si nota come il pittore abbia accostato, creando un magnifico contrasto i colori viola e verde, che rappresentano la temperanza, la donna ha il piede poggiato su una corona d'oro. Dall'altro lato della chiesa, sulla sinistra, c'è la fede. La speranza è una bellissima carità, una donna che allatta non solo il proprio piccino, ma si prende cura anche di altri due. Tra le finestre di destra e di sinistra sono posizionati due riguadi a forma di scudo. Quelli di destra rappresentano scene di vita di San Benedetto da Norcia, fondatore dell'Ordine dei Benedettini. Il santo nacque, con buona probabilità, nel 480 d.C., poco dopo la caduta dell'impero d'Occidente, che avvenne nel 476, al tempo in cui l'Italia era invasa dai goti, popolazione di origine germanica e di religione ariana. Questi ben presto effettuarono scorrerie per tutta l'Italia, per i regni romani che erano stati vinti. Alla luce di ciò, San Benedetto ebbe l'idea di fondare due monasteri in Italia, su Biaco e Monte Cassino, che accogliessero sia i goti che i latini, un luogo in cui le due culture potessero dialogare nella pace. I due monasteri benedettini divennero così le uniche istituzioni sicure in un impero che era caduto, un luogo dove si accettava un dialogo tra i goti e i romani, che fuori era impossibile. Ecco perché, tra le prime due finestre, a sinistra, nel riquadro si vede San Benedetto che accoglie San Mauro e San Placido, divenuti due santi benedettini. Dall'altro lato, sulla destra, si osserva San Benedetto, davanti al quale si ingenoggia Totila, re dei goti, che gli rende omaggio. Nel tetto della chiesa, un grande affresco centrale raffigura il trionfo di San Benedetto, che alza in mano il libro della regola, ora et labora. Accanto a lui, la suora Santa Scolastica, sorella di San Benedetto, e dall'altro lato del suo trono, Papa Gregorio Magno, che fu il suo primo biografo. In questo affresco, il massimo della fantasia creativa per il Settecento, creando un turbide di forme e un vortice di figure. Su ogni nuvola siede una figura diversa. Si tratta di santi, papi, degli ordini benedettini. Nella fantasia dell'artista, queste figure girano come in una tempesta, un vortice circolare, in cui le ultime figure, quelle dei guerrieri, si staccano dal piano dell'affresco e vengono verso di noi sulle loro ruole. Quello che si crea è un magnifico effetto 3D. Un altro affresco della chiesa, degno di nota, è quello vicino all'altare, nel quale San Benedetto è dipinto nel momento della sua morte, in piedi, con una veste molto scura, mentre riceve l'Eucaristia, nell'ultimo attimo di vita. Per rappresentare questo momento, il pittore dipinzia la veste di San Benedetto di un tono molto scuro, che contrastasse con il bianco pallore del volto. Proprio questo affresco è considerato da molti un miracolo della pittura barocca, per questi accostamenti tra il bianco e il nero, il rosso del tappeto sui gradini e il verde dei marmi delle architetture che si trovano sullo sfondo. La critica ha considerato l'affresco dell'altare uno dei momenti più fulgiti della pittura setteciantesca, motivo per cui il sito è divenuto patrimonio dell'umanità. La scalinata degli angeli, il rivistoso ingresso principale che conduce verso la chiesa settecentesca del monastero di San Benedetto, incornisce dal basso verso l'alto le sue maestose porte riccamente decorate. Completata nel 1712, la scalinata rappresenta uno degli esempi caratteristici del barocco siciliano. La sua particolarità, a cui deve anche il nome, è dovuta alla presenza di sculture rappresentanti angeli, che alla sua remontrode entrambi i lati, fatte di stucco marmorio, materiale meno pregiato rispetto al marmo. Non è un caso la scelta del materiale povero, utilizzato per mettere risalto ancor di più la magnifica chiesa, a cui fanno d'anticamera e il prezioso altare. Tutto ciò che si trovava al di fuori della chiesa doveva essere fatto di materiali meno pregiati, per evitare che l'attenzione del fedele potesse distogliersi dall'altare e quindi dalla preghiera. Ecco perché, entrando in chiesa, i materiali più preziosi saranno quelli dell'altare, in oro zecchino e argento, interamente fatti in diaspri. Il dinamismo dell'architettura barocca della scalinata degli angeli, fatta di convestità, concavità, stucchi rococò ed ellissi, è netto contrasto con la pavimentazione, che infatti è quella originale di un antico tempio romano. Spostato e ricollocato all'interno di questa scalinata, il pavimento presenta lastre marmone geometriche tra i marmi bianchi. È probabile che sotto questi piani di calpestio, sia della chiesa di San Benedetto che della chiesa a fianco di San Francesco Borgia, ci siano dei resti di grandi edifici templari sacri di epoca greca e romana. Non si sa con esattezza a quale divinità fossero dedicati i tempi, ma è certo che l'area in cui sorge la chiesa un tempo era l'acropoli della città greco-romana, l'area sacra. Il pavimento della chiesa è invece in marmo ed è del periodo barocco. Di adoperare materiali di costruzione precedenti, dopo le ricostruzioni successive alle distruzioni vulcaniche, era una pratica molto in uso in Sicilia. La scalinata è stata ideata dall'architetto per risolvere il problema del collegamento tra il piano della strada, che è 7 metri più basso, e il piano di calpestio della chiesa. Questa è in parte contenuta all'interno dell'endoportico, portico interno, sormontata dagli angeli e in parte fuori da questo portale, fino alla strada dei via crociferi. Il portale è del 1708 di autori ignoto, tutto scolpito in legno, con otto formelle in legno raffiguranti scene di vita di San Benedetto. Nel 1959, durante i lavori per la costruzione della fognatura delle via crociferi, sotto la statua del cardinale nella piazza San Francesco, sono state ritrovate migliaia di piccole statuette in terracotta di epoca greca. Nel 1959 ad oggi, la catalogazione di queste statuette votive ha fatto capire che a 50 metri dalla chiesa del monastero di San Benedetto, in epoca greca, sorgeva uno dei più grandi santuari dell'Occidente greco, dedicato al culto di Demetra e Core.